Chi le scrive è una moglie e una madre disperata che in un attimo ha visto distrutti i suoi sogni e i sacrifici della propria vita. Inizia con queste parole la domanda di grazia che la mamma di Casarano ha scritto di suo pugno al Presidente della Repubblica. La donna, oggi 36enne, tre anni fa ha ucciso Iole Provenzano e ferito il marito di lei, Luigi Compagnone, dopo aver scoperto che l'uomo violentava da tempo suo figlio. Il bambino aveva appena sette anni e si recava a casa dei due anziani coniugi ogni giorno per il doposcuola. A seguito degli orrori subiti da mio figlio mi sono resa responsabile dei reati più efferati che un essere umano possa commettere, prosegue la donna nella domanda di grazia. E' toccante il racconto, già condannata a sette anni di reclusione con sentenza definitiva della Cassazione, con pena sospesa per il momento perché madre di tre figli con età inferiore a dieci anni, di cui una l'ultimo genita di soli sei mesi. A seguito di una discussione in famiglia, scrive la donna, in merito all'attività di doposcuola svolta dal mio bambino, ho notato che lui si allontanava angosciato dal tavolo per appartarsi in un angolino. In quel momento sarebbe venuta a conoscenza delle ripetute violenze subite dal figlio letto nella camera da letto della famiglia compagnone. Violenze per cui il suo aguzzino è già stato condannato a dieci anni di reclusione. Violenze di cui sarebbe stata complice anche la moglie, la Provenzano, in quanto consapevole del calvario subito dal bambino. Inizialmente la madre avrebbe deciso di non denunciare l'accaduto per preservare il suo bimbo allontanandolo definitivamente da quella casa. Ma i continui disturbi del piccolo le hanno fatto perdere i lumi della ragione. Il resto è cronaca già nota. Ubriaca si è recata a casa degli anziani coniugi. Qui ha ucciso Iole Provenzano con un coltello da cucina mentre la donna faceva da scudo al marito disteso sul letto. A scatenare la rabbia assassina della madre la frase pronunciata dall'uomo a tuo figlio piaceva. Per questo la mamma, assistita dagli avvocati Luigi Corvaglia e Francesca Conte, ora si appella al cuore di Napolitano, il cuore di un genitore che ama i propri figli, prima ancora che quello del capo dello Stato. Sono una madre totalmente distrutta, scrive, ma ora la serenità di mio figlio è nelle sue mani. Mi permetta di stargli accanto per avere la possibilità, con la mia presenza, di porre rimedio al dramma che il mio bambino vive ogni giorno.